Questo servizio non è una pubblicità, ma il monito alla cittadinanza eugubina perché tutti insieme si impedisca la chiusura della bottega Equosolidale. Attiva da 11 anni sempre in via Cairoli, l'Arcobaleno è l'unica, la sola realtà Equosolidale presente a Gubbio e rischia seriamente di chiudere i battenti. Perché? È vero, già di per sé un'attività Equosolidale è tendenzialmente fallimentare, i margini di guadagno sono infatti molto bassi, ma a Gubbio tuonano anche altre aggravanti. In primis non si è mai stretto un vero patto di amicizia tra cittadini e associazione madre della bottega. Addirittura a Natale succede spesso, raccontano due socie volontarie, che tornano indietro in bottega a cesti Equosolidali, ricevuti in dono perché chissà che razza di prodotti sia paura ci siano dentro. Molti e Gubbini ancora non sanno quale e quanti valori pulsano dentro un semplice biscotto Equosolidale, mentre scegliere di mangiarlo, preferire proprio quel prodotto Equo al suo simile multinazionale, è valore aggiunto al nostro essere cittadini del mondo. Un grazie dalla terra e dai popoli più poveri. Purtroppo nel tempo i soci sono sempre stati di meno e anche forse il centro storico si è un po' svuotato, ma soprattutto a livello di cittadinanza c'è stata sempre poca conoscenza. Quindi da parte nostra, secondo noi, perdere questo piccolo cuore pulsante sarebbe una grande perdita, perché le potenzialità di una bottega sono enormi. Al di là del commercio si possono sviluppare progetti di sostegno alle popolazioni del sud del mondo, conferenze tematiche, conoscenza delle realtà produttrici del sud del mondo. Se la bottega non è mai entrata nelle case degli ugubini, l'associazione Arcobaleno se ne addossa alcune responsabilità. Saremmo dovuti andare nelle scuole, come hanno fatto con successo a Terni e Città di Castello, dove l'Equosolidale tira tantissimo. Organizzare incontri e convegni per spiegare esattamente agli ugubini il prestigio di un progetto Equosolidale, spiegano ancora le socie. Chi compra il prodotto di una bottega Equosolidale combatte il lavoro minorile, tutela al massimo l'ambiente, valorizza il valore di un prodotto, non il suo prezzo commerciale e ancora stimola l'utilizzo di materie prime rinnovabili insieme e questo è il punto più prestigioso a progetti di formazione per le popolazioni più povere. Il costo di un oggetto Equosolidale diventa istruzione, cibo, cure e un tetto per gente indigente, da cui è partito. Però è sapere che c'è un valore aggiunto, quindi anche un'etica di comportamento che ognuno di noi può scegliere nell'acquisto di un prodotto particolare, di cui si sa che c'è una giustizia, c'è un'etica di lavoro, di comportamento, di come tratto l'individuo, il terreno che coltivo, eccetera. E credo che sia fondamentale, sia una scelta consapevole di un cittadino, soprattutto in questi tempi abbastanza difficili, in cui abbiamo bisogno assolutamente di essere il più collegati possibile. Ma così non si penalizza il mercato locale? È il sospetto di molti. No, risposta francamente negativa. Punto primo, certe materie prime o prodotti devono necessariamente venire dall'America, Africa e India, perché in molti ci hanno provato, ma sul terreno italiano non fioriscono cacao, zucchero di canna, risobasmati, quinoa, tè e caffè. E il motore del commercio eco-solidale sono proprio le cooperative locali, del posto, della nostra nazione, le aziende e le imprese italiane che scelgono dove acquistare la materia prima per poi trasformarla sia nei paesi del terzo mondo che qui in Italia, coinvolgendo cooperative e realtà sociali, carceri soprattutto. Un'attività eco-solidale non gode di nessuno sgravio fiscale. Commercio eco-solidale ovvero pagare tutte le tasse di qualsiasi altra impresa, commercialista, bollette, ma soprattutto affitto. A gubbio quello molto pesante di un piccolo locale in centro, attualmente pagato da un amico dei soci, fino a quando non si sa. E al consiglio di traslocare la bottega fuori dal centro storico, vicino a centri commerciali in esplosione, dove il traffico di gente è maggiore e l'affitto magari più leggero, i soci scuotono fermamente la testa perché vorrebbe dire vivere grazie allo sviluppo della grande distribuzione e si sa, il mercato eco-solidale vuole essere un altro mercato, corretta concorrenza alle multinazionali. Materialmente, cosa fare dunque per rilanciare a pieno ritmo il cuore pulsante della bottega arcobaleno? Basterebbe il sostegno costante dei 60 soci affiliati e l'impegno minimo ma fondamentale di ognuno dei singoli cittadini che preferisce un solo prodotto eticamente importante al rispettivo firmato, che costerebbe ancora di più. Oppure socio sostenitore, produttore di idee, fornitore di tempo, cliente affezionato. Questo insomma, avvicinarsi alla bottega, esplorarla, appoggiarla e diffonderne l'impresa. L'ultima cosa che volevamo dire è che la bottega è un luogo di persone e soprattutto è un'idea a politica e a confessionale che siamo un mosaico di gente diversa, con professionalità diverse, idee diverse. L'unico obiettivo è questo, è una giustizia, un'etica di comportamento diversa. L'unico obiettivo è una giustizia, un'etica di comportamento diversa.